È stata trovata la cura per l'Alzheimer? Il dibattito è ancora aperto sui farmaci che sarebbero in grado di rallentare la progressione della malattia, ma non si tratterebbe di cure risolutive. Secondo l'osservatorio demenze dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia attualmente ci sono oltre 600.000 malati di Alzheimer e si stima che entro il 2050 il numero potrebbe raddoppiare. Spiega il TG8 il professore Stefano Sensi, direttore dell'Unità di Neurologia Molecolare del CAST, il Centro di Studi Avanzati e Tecnologie dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche dell'Ateneo e dal prossimo 1 novembre guiderà anche la clinica neurologica fondata 40 anni fa dal professore Domenico Gambi e diretta dal 2008 a quest'anno dal professore Marco Noffri che andrà in pensione. continuerà a collaborare con l'equip di studiosi che ha condotto ricerche importanti che ormai sono patrimonio della comunità scientifica internazionale. L'ultima in ordine di tempo riguarda le psicosi. Quali frontiere si aprono per quanto riguarda le cure farmacologiche e l'Alzheimer? Siamo in un momento di importante transizione perché non da noi ma sul mercato nordamericano sono già disponibili dei farmaci che vengono detti di disismo defining, cioè possono modificare la traiettoria di malattia, c'è molto dibattito. Ci sono delle potenzialità però la questione è ancora molto da valutare con cautela perché sono farmaci molto costosi, pieni di possibili importanti effetti collaterali, sicuramente da usare nel caso in una ristrettissima fascia di persone. Quindi ci sarà un grosso problema di gestione di questa input sia per quanto riguarda la spesa sanitaria sia anche il rapporto con il pubblico. Qual è la situazione in Abruzzo? La situazione è stabile, anzi devo dire che effettivamente per quanto riguarda il comparto demenza e la prevenzione, il fatto che molta gente faccia già per tante altre buone motivi degli interventi sul lifestyle, quindi controlla la pressione, il peso, la dieta, fa esercizio fisico, di fatto è un po' diminuita l'incidenza e la prevalenza. È vero però che non bisogna pensare che sia una malattia necessariamente geriatrica perché frequentano certamente i nostri ambulatori persone anche che sono relativamente giovani, sicuramente intorno ai 60 anni o anche più giovani dei 60 anni che sono affetti da questa terribile patologia.